Raffaello il sole delle arti è il titolo di questa mostra è il tentativo di rappresentare Raffaello, questo straordinario artista, una delle glorie dell'arte italiana in una maniera inconsueta, cioè avvicinarci a lui attraverso la rappresentazione del suo impegno creativo verso le cosiddette arti con generi, secondo il termine usato da Vasari. Arti con generi sono quelle manifestazioni artistiche differenti dalla pittura, dalla scultura e dall'architettura che hanno avuto un'enorme importanza nella cultura artistica italiana e mondiale. Naturalmente la mostra non si avvicina solo a Raffaello come artista, progettista di opere di arte con genere, ma c'è all'inizio della mostra una sezione importante che attraverso capolavori assoluti dei suoi maestri tenta di dare un contributo alla formazione artistica di Raffaello, quindi Luca Signorelli, Vinturicchio, naturalmente Berugino, ma ancora più importante il padre Giovanni Santi, Luca della Robbia, ci consentono di avvicinare a quello che era stato l'ambiente di formazione di suoi veri maestri all'inizio della straordinaria carriera, ancora più breve.